Ed oggi andiamo a parlare di un nuovo dispositivo domotico. Torniamo a parlare di Smart Life, ma più nello specifico di sensore di trasmissione infrarossa e 433 MHz. Stiamo parlando di un dispositivo veramente rivoluzionario, perché questo sensore ci permette in pochi passi di comandare diversi dispositivi ad infrarosso, ad esempio televisioni, computer, condizionatori, tutte quelle cose che hanno un infrarosso come telecomando. E di conseguenza possiamo andare a sostituire il telecomando con appunto questo nostro dispositivo e comandare il tutto tramite gli appositi dispositivi assistenti vocali. E per utilizzare questo dispositivo basteranno semplici passi. Infatti basterà aprire l'app Smart Life, metterla in modalità accoppiamento e una volta accoppiato il dispositivo alla nostra applicazione saremo fin da subito pronti ad andare a inserire dispositivi che siano infrarosso o che siano 433 MHz. Per farlo è veramente molto semplice, ci sarà un submenu all'interno dell'applicazione dove praticamente ci permetterà di andare a vedere, ad esempio, i dispositivi infrarosso, quindi come condizionatori, televisioni e tutti quei dispositivi che hanno un infrarosso come comando, quindi attraverso un telecomando, oppure i dispositivi 433 che non sono tutti tipo non possiamo andare ad aggiungere il telecomando del cancello ma solo i dispositivi compatibili 433 MHz quindi i telecomandi della domotica piuttosto che altro. Questo era il dispositivo 433 MHz e Wi-Fi, spero che questo micro video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio.